Ciao a tutti e oggi vediamo come cambiare lo sfondo della videochiamata su zoom ecco come fare per impostare un fondo personalizzato e dove trovare tutti gli sfondi per le videochiamate zoom ormai è diventata l'app del momento e sono in molte ormai aver installato il programma per fare videochiamate di gruppo tra le varie opzioni più utili c'è quella di cambiare lo sfondo personalizzabile con diversi tipi di immagini quindi se andate a effettuare una videochiamata e magari nella vostra stanza non c'è tanto ordine e vi scoccia far vedere un po' dietro cosa avete potete semplicemente mettere questi bellissimi sfondi ma come fare a metterli e dove trovarli adesso lo vediamo insieme quindi come prima cosa per poter cambiare il nostro sfondo dobbiamo aprire l'app da pc e cliccare sul vostro profilo in alto a destra da qui bisogna poi accedere alle impostazioni e nel menu a sinistra selezionare la voce virtual background all'interno di questa galleria potremo scegliere delle immagini a nostro piacere e quindi metterle come sfondo inoltre possiamo anche caricare un'immagine a nostro piacimento basta quindi premere il simbolo più posizionato accanto a choose virtual background e caricare l'immagine che vogliamo questa apparirà come sfondo dietro la nostra videochiamata state attenti poi a scegliere un formato ottimo in modo che si veda bene nella vostra immagine il formato corretto è 1280 x 720 di pixel se si utilizza invece l'app dallo smartphone per cambiare lo sfondo dovrete fare tap sul menu con i tre puntini in basso a destra e selezionare mur e virtual background da qui avrete accesso all'immagine di sfondo personalizzata da poter utilizzare allora divertitevi tranquillamente a scaricare a trovare anche nuovi particolari sfondi su internet se volete sapere di più di questa app fatemelo sapere nei commenti intanto vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivetevi al canale ciao e alla prossima